C'è del marcio in Trentino Alto Adige e bisogna dirlo adesso perché tra una decina di giorni ci saranno le elezioni. È un marcio di colore rosa, come sempre, dove si intrecciano situazioni di potere e il mito della violenza sulle donne, il mito solito su cui si intrecciano varie consorterie, clientele e business. Mettiamo insieme due fatti. Allora, il Trentino Alto Adige è la regione dove è stata candidata Maria Elena Boschi. L'hanno candidata lì perché se la candidavano nella sua zona di appartenenza in Toscana, dopo la storia di Banca Etruria, non sarebbe stata eletta. Quindi l'hanno eletta lì. E parliamo di una parlamentare, è stata ministra e quant'altro, che è stata una delle più feroci sostenitrici del femminazismo nazionale, subito dopo la Boldrini. È andata un po' sulla scia della Boldrini. È quella che si è inventata il G7 in rosa o che si è portata dietro e si porta ancora dietro Lucia Annibali, una delle persone più risarcite al mondo dopo essere stata attaccata dal fidanzato con l'acido. Quindi già c'è questo primo elemento. Un secondo fatto, a settembre, questo settembre, la regione Trentino Alto Adige ha stanziato una grossa somma per sistemare i boschi, per sistemare le strade, rifare le scuole. No, per pubblicare un opuscolo in tutte le lingue locali, quindi italiano, tedesco, ladino, cimbro e mocheno, per insegnare i trentini a femminilizzare le parole, i termini. Quindi per insegnare i trentini a dire soldata invece di soldato, medica invece di medico e queste cose qui. Quindi in Trentino Alto Adige evidentemente non ci sono problemi se si spendono soldi pubblici per questi scopi così nobili, diciamo. Ma il non plus ultra c'è stato qualche giorno fa. Il professor Claudio Della Volpe, non del PD, candidato a sinistra per le prossime regionali dall'area di liberi uguali, PD, quella roba lì, si lascia scappare una dichiarazione su Facebook. Questa. Quando mi si dice che in Italia c'è una crisi di femminicidi mi girano le palle. È falso. Certo, le donne sono uccise più da uomini che da donne, spesso da loro compagni, ma che ci sia una crisi o una sciocchezza. Quello che è successo è che si è ridotto parecchio il numero di maschi uccisi dalla malavita, mentre la riduzione degli omicidi di donne è lenta ma costante. Poi va avanti e cita una serie di statistiche. Ma parla come me. Sembra un fan del mio blog. Dice le stesse cose, usa le stesse statistiche per dire cosa? Che quello del femminicidio è un elemento, è un fenomeno sostanzialmente rilevante, comunque di scarsa importanza rispetto a molti altri. Quest'uomo è di sinistra e giustamente cita, per esempio, gli incidenti sul lavoro. Quando le colleghe di partito e tutto questo sistema che predomina in Trittino e Antoadice legge questo post, scoppia l'ira di Dio. Lo subissano di insulti, di pressioni e lui ovviamente è costretto a cancellare il suo post, sebbene dica cose assolutamente ragionevoli, e a fare un altro post dove si scusa, dove dà delle spiegazioni, si arrampica sugli specchi, mette insieme un po' di tutto, dice sono comunista, i diritti dei lavoratori, però le donne un pastone inutile semplicemente per umiliarsi, e questa è una tristezza per un professore, e per scusarsi, per cancellare questo orribile post che aveva fatto e che ha fatto infuriare tutto questo sistema che predomina in Trittino e Antoadice. Ora, io me la sto prendendo con una piccola ma importante e meravigliosa regione italiana, ma forse sto un po' esagerando, nel senso è così forte questo sistema in Trittino e Antoadice? Secondo me sì. Forse qualcuno ricorda che nell'aprile scorso a Pergine Val Sugana, che è in Trittino e Antoadice, si erano un po' stufati di fare le solite fiere, mercatini, cose del genere, e hanno cercato, come dire, di alzare un po' il livello organizzando anche dei convegni correlati a queste manifestazioni, convegni ovviamente tutti incentrati sulla violenza sulle donne. Poi a qualcuno, non si sa bene a chi, è venuta l'idea di aggiungerci una piccola manifestazione chiamata Uomini Soli, dedicata alla violenza sugli uomini. In occasione di questa manifestazione è stato pubblicato un sondaggio online, su internet, dove c'erano una serie di domande riservate agli uomini per cercare di capire questo fenomeno della violenza sugli uomini, se esiste, quanto è grande, eccetera, eccetera. Io ricordo che l'ho pubblicizzato molto sul blog ed ero ansioso di conoscere i risultati di questo sondaggio. Finito, terminato il sondaggio, scrivo agli organizzatori per chiedere, allora vediamo un po' i risultati, sono molto curioso di sapere, nessuna risposta. Dopo un po' mi rispondo, mi dicono, no abbiamo deciso di non pubblicarlo perché il metodo non è scientifico, l'abbiamo preso online. Io rispondo dicendo, capito, possiamo anche, si può anche specificare che la metodologia non è esattamente scientifica, ci possono essere dei margini d'errore, ma vediamo a grandi linee, a spanne, che cosa è venuto fuori? Nessuna risposta. Allora io chiedo, dove sono finiti quei dati? Perché fare un sondaggio online su un argomento del genere, raccogliere i dati e poi non pubblicarli? È una scusa? C'è dietro puzza di bavaglio, c'è dietro puzza di mafia. Dove sono finiti quei dati? Perché non vengono fuori? Forse sono un po' troppo scomodi, vanno un po' troppo contro quel predominio rosa che in Trentino Alto Adige sta facendo cose così commendevoli? È una cosa che io chiedo ufficialmente a tutti costoro che erano coinvolti in questa organizzazione di uomini soli. E non sono persone qualunque, c'erano il Rotary, c'erano varie strutture private, le istituzioni e molte persone, gran parte delle quali oggi sono candidate, ovviamente per la sinistra. Dove sono finiti quei dati? E se non rispondete io chiedo agli elettori trentini di fare una pensata su questo regime che c'è lì da voi, su questo andazzo che c'è lì da voi e magari incominciare a dare una piccola lezioncina a questa mafietta rosa che predomina e che fa quello che vuole mettendo il bavaglio e nascondendo la realtà delle cose. Cosa ne dite? Grazie a tutti.